Lasciatemelo dire perché individuando una figura che combatte la camorra e che è il magistrato Raffaele Cantone mi viene naturale oggi, 19 marzo, svolgere un pensiero, dedicare un pensiero a Don Peppe Diana, un pensiero commosso di chi allora fu ucciso in modo atroce e che comunque non ci esime dal prendere atto che si continua a morire di criminalità persino a tre anni come è accaduto a Taranto due giorni fa.